22 dicembre 1908, nasce a Bergamo Giacomo Manzoni, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Manzù, grande scultore italiano, definito il Michelangelo del XX secolo. Di umili origini, a soli undici anni comincia a lavorare come apprendista intagliatore e doratore. Negli anni 30 l'incontro a Milano con Carlo Carrà lo inizia all'arte sacra moderna. Nel 1947 partecipa al concorso indetto dal Vaticano per la realizzazione di una porta della Basilica di San Pietro e nel 1952 ne ottiene la commissione ufficiale. La porta della morte viene poi inaugurata da Paolo VI nel 1964. Muore il 17 gennaio 1991.